. Dopo per 6 anni, arriva il fratellone Mainardi. Andrea prepara una torta salata estiva, senza però usare il forno. . Ecco la torta di provola affumicata. Ingredienti Procedimento Prendiamo uno stampo a ciambella antiaderente, che è meglio coprire con la pellicola alimentare. . Rivestiamo l'intero stampo con la provola affumicata affettata, sovrapponendo le fettine con cura. Meglio non tenere la provola in frigo. In questo modo sarà più morbida e aderirà meglio allo stampo. . In una ciotola, lavoriamo la ricotta con un filo d'olio, sale e pepe. Aggiungiamo i semi di zucca, le olive denocciolate a pezzetti, il prosciutto crudo a cubetti piccoli, e la rucola fresca tritata finemente. . . Mescoliamo il tutto per bene. Trasferiamo la farcitura di ricotta all'interno dello stampo rivestito con la provola. . Pressiamo con un cucchiaio, in modo da far aderire per bene la provola allo stampo. . . Copriamo con altre fettine di provola affumicata. A questo punto, se vogliamo, possiamo metterla un paio di minuti in forno a centosessantesimo, in modo che la provola aderisca ancora meglio allo stampo. . 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